un'altra bellissima coppia che sta partecipando ai casting un amore così grande ragazzi come vi chiamate siete consapevoli che state per partecipare ad un nuovo format televisivo siete felici e raccontatevi un aneddoto in particolare della vostra storia d'amore nata quindi state insieme da pochissimo tempo e cos'è che vi ha fatto cos'è che ha fatto scoccare l'amore e quindi avete deciso di sposarvi e questo è la conferma che un amore così grande esiste davvero ragazzi vi aspettiamo in bocca al lupo grazie a te grazie a te grazie a te